C'era un certo stile nella sceneggiatura. Io avevo letto la prima stesura e avendo saputo che Ralph interpretava Steve e che Uma Thurman aveva il ruolo di Emma Peel, ma questo fatto ha influito a convincermi ad accettare la parte. Senza questi due personaggi, non importa quanto l'antagonista potesse essere bravo, il film non avrebbe funzionato. Loro sono perfetti, anzi persino meglio di quanto avessi immaginato.